Ciao da Ross Dei Rossometile. Quest'anno siamo in festa perché ricorrono 25 anni dalla nascita di questa band e abbiamo pensato che il modo migliore per festeggiare fosse farlo in musica, registrando un album che contenesse brani tratti da tutta la nostra discografia, però riarrangiati in chiave acustico-sinfonica. E per fare questo abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Quest'album quindi ripercorre un po' tutta la nostra storia, attraverso brani lontani nel tempo e diversi tra loro, e il nostro progetto è quello di riarrangiarli dando loro una nuova veste acustico-sinfonica. Per questo abbiamo deciso di intitolare l'album Ostara, come l'antica festa pagana che coincide con l'inguinozio di primavera, proprio per simboleggiare la rinascita di questi brani a una nuova vita. Vista l'importanza della ricorrenza, abbiamo pensato che realizzare soltanto un album fosse poco e quindi abbiamo deciso di associare da ogni brano un disegno, realizzato per noi da una disegnatrice fantastica, che è impreziosito con la sua arte e il nostro album. Questo progetto quindi è un costo e abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per poterlo realizzare, attraverso donazioni oppure acquistando la merce che vi presenteremo. Grazie per il vostro sostegno e il vostro cuore.